Ciao ragazzi, sono il Signor Cadena e sono qui oggi per la recensione dell'anime e le bizzarre avventure di Jojo terza stagione dal titolo Diamond is Unbreakable ecco, le prime due stagioni le ho recensite e l'autore sul canale ve lo metterò qua sopra i link Che cosa dì di Diamond is Unbreakable? Un completo disastro su tutta la linea è terrificante per i motivi che adesso spiegherò anche in questa parte è uno spoiler qual è il problema? È che la serie che comunque nelle prime due stagioni era abbastanza seriosa nonostante il trash qua diventa per ragazzini, diventa per adolescenti giapponesi, diventa tutto quello che non era stato prima è un po' come Star Wars Episodio 9 perché il sapore è proprio quello di disfat, di volersi rinnovare e qua si lega la mia critica nella seconda stagione in cui dicevo ma se quel tal nemico di cui non farò il nome muore svanisce completamente il fascino della serie come faranno a rinnovarsi? infatti si rinnovano cambiando genere e diventando stupidi, irritanti senza pathos, senza nulla tenendo l'unico aspetto positivo che era lo stand che non spiegherò qui, in questa parte è uno spoiler perché uno deve aver visto la serie tenendo quell'idea lì su un fondo di nulla di bruttezza più unica che rara è stupido, è una presa in giro io mi sono sentito offeso non mi è piaciuto neanche l'animazione i personaggi sono senza carattere è l'unico che è Giotaro anche qua sprecato i personaggi della seconda stagione sono sprecati è tutto sprecato l'unica cosa decente è il villain che è introspettivo ha un background e quindi tu lo puoi conoscere un po' e ricorda vagamente i villain belli della prima e della seconda stagione ma per il resto è il nulla assoluto io andrei nella parte spoiler dicendo che è un completo disastro e che non so se continuerò a vederla anzi, guarderò i primi due episodi della quarta stagione perché sono onesto intellettualmente e magari questo è stato uno scivolone pazzesco ma non credo se i primi due episodi della quarta stagione non mi dovessero piacere la salterò in blocco tutta la storia è su Josuke e sul suo amichetto quello basso essenzialmente più un gruppo di comprimari che sono ex villain un po' come nella seconda stagione cosa non mi è piaciuto andiamo in fretta perché guarda voglio dedicarci meno possibile su questo tema innanzitutto a grandi linee il personaggio di Jotaro che qua è orrendo nel senso perde tutto il fascino che era il Kenny il guerrero della seconda stagione quando l'ho visto ma chi è questo? aspetta no, ma non è quello lì no, ma osceno ma non tanto il vestiario che può essere che è diventato un bravo ragazzo uno che studia ok ma è il modo di comportarsi e il suo utilizzo è folle folle non compare è un comprimario è più investigativo che di lotta perché si deve dare spazio all'alto si chiamava Josuke ecco e compare pochissimo il problema essenziale è che lui dovrebbe risolvere tutto con lo Star Platinum adesso parliamone ma non c'è mai quando serve non c'è mai lui potrebbe risolvere tutto fermando il tempo e la cosa è peggiore sapete qual è? che verso la fine quando c'è il cattione di cui non ricordo il nome ecco lui non può fermare il tempo più di due secondi però questo è folle perché se come ho fatto la critica io nella seconda stagione lui impara a fermare il tempo di un secondo in 20 minuti quando io ci ho messo 6 mesi per sviluppare 5-6 secondi qua in anni non è mai riuscito ad andare oltre i due secondi non ci chiedo neanche se lo vedo e ovviamente è stato fatto questo perché è overpower e quindi sarebbe stupido e sarebbe danoso per la serie ma perdi completamente di credibilità credibilità che è nulla a livello grafico perché tutti in una città quindi pigramente si svolge senza inventiva cioè questi fanno cose vanno in case diverse e c'è un problema con questo utilissimo arco che spara frecce quindi collegamento con la seconda stagione forzatissimo e quindi si sono levati molte grane dall'inventare una storia a sviluppare una tema come ha stato fatto molto bene nelle prime due stagioni e questo ci porta ai filler senza scopo perché 39 episodi il cattivo arriva al 22esimo potrebbe durare i 25 episodi questa stagione da 20 minuti sarebbe stato lo stesso invece il fatto è che non c'è nulla in questa storia i personaggi sono vuoti sono piatti anche questo Josuke non è nulla sono personaggi di un anime per ragazzini magari per tipo quelle un po' fantasy dove ci sono i draghi le streghe eccetera eccetera però fatto nel mondo di Jotaro dove c'è lo stand il potere religioso che è quello di ricostruire riportare indietro quello che è stato rotto è molto comodo perché non muore mai nessuno non c'è mai pathos più dici vabbè ma tanto lo porta indietro sì in realtà se uno muore lui non può riportarlo ma lui lo farà un momento prima della morte è brutto non ha senso non c'è pathos non c'è tensione anche i nemici sono idioti sono tutti stupidi non hanno motivazioni gli stand per la maggior parte non sono strategici se c'è mene basta solo 4-5 degni di nota davvero non mi colpisce non mi ha preso perché si vede che sono filler attaccati con lo sputo come detto lo start pattern non viene usato quando potrebbe risolvere tutto e non viene usato l'ironia è infantile il disegno non mi piace l'animazione perché rappresenta il colmo il culmine di quello che sto dicendo è da manga per ragazze adesso non ricordo come si chiama è un tipo di animazione completamente differente dalle prime due che era trash ma bella piena di atmosfera qua è fittizia è un giochino è una cosa stupida che dà l'impressione di essere stupido ma anche il contenuto è stupido poi vengono introdotti personaggi anche della seconda stagione come il nonno non mi piace è forzato questo figlio illegittimo poi non c'è un vero villain perché quello che la serie la palestra come nemico in realtà è uno che si è fatto i cazzi suoi forse questo può essere interessante però non è contestualizzata questo è un disastro completo secondo me questa serie non mi ha mai emozionato perché i personaggi sono senza background che era il punto forte delle prime due stagioni c'era atmosfera devo ripeterlo ancora tensione quando entrava in scena Dio dice che succede qua niente sai che tutto finisce così ci sono tutti gli stereotipi c'è quello che si è con i manga c'è il nanetto c'è quello con la capigliatura che se gli fai la battuta poi se la prende si incazza c'è gag una fila di gag io sono allibito mi fa schifo l'unico aspetto positivo secondo me è nel finale qualcosa di buono c'è c'è il fatto di riavvolgere il tempo perché il figlio del nostro protagonista del villain scusate che è si è impossessato di un altro corpo deve tornare indietro per capire come comunicare ai nostri eroi il fatto che il padre sia stato preso dal villain eccetera eccetera quello è interessante ah un altro difetto scusate gli stand sono a caso cioè si evolvono a caso se serve alla trama allora si evolvono è interessante come questo bambino faccia capire come sono andate le cose per far intervenire i buoni il personaggio del bambino è il più degno di nota ma perché è approfondito un minimo capite l'orrore in un contesto di niente il più approfondito sembra Tom Hanks in Forrest Gump no basta non voglio dire più niente orrenda non voglio dire più niente non voglio dire più niente non voglio dire più niente passare non voglio dire più niente non voglio dire più niente